Frutti rossi di bosco, flavonoidi e pressione arteriosa. L'effetto dei flavonoidi sulla pressione sanguigna potrebbe essere mediato dal microbiota intestinale. Le prove a sostegno di un effetto positivo dei flavonoidi sulla salute cardiovascolare sono ormai consistenti. Sta d'altra parte emergendo che i flavonoidi, pigmenti naturalmente presenti in alimenti come frutti di bosco, mele, tè, vino e cioccolato fondente, interagiscono con il microbiota intestinale a livello del quale influenzano la crescita di specifici ceppi. Questi nuovi ceppi batterici avrebbero la capacità di trasformare i flavonoidi in metaboliti che potrebbero essere responsabili di una parte degli effetti benefici sull'organismo e soprattutto sulla pressione arteriosa. Lo confermano i risultati di uno studio tedesco condotto su 904 adulti sani di età compresa tra 25 e 82 anni. In questo tipo di popolazione si è osservato che i livelli di assunzione più elevati di cibi ricchi di flavonoidi, tra cui frutti di bosco e vino rosso, corrispondevano a valori della pressione sistolica significativamente inferiori e una maggiore diversità soprattutto del microbiota intestinale, una caratteristica considerata assolutamente favorevole. Rispetto a chi aveva dei flavonoidi, dei cibi ricchi di flavonoidi, consumi più bassi. In particolare il consumo giornaliero di 1,6 porzioni di frutti di bosco, così come l'assunzione settimanale di 2,8 bicchieri di vino rosso, alimenti notoriamente ricchi di flavonoidi e in particolare di antociani, si associava a livelli di pressione sistolica più bassa rispettivamente di 4,1 mm di mercurio e 3,7 mm di mercurio e ad una maggiore diversità del microbiota intestinale. In particolare con i livelli di apporto più elevati di flavonoidi e frutti rossi è stata osservata una minore abbondanza di parabacterioides, la cui presenza correla generalmente con valori pressori significativamente più elevati. Il dato interessante, suggerisco agli autori, è che l'associazione positiva osservata tra flavonoidi e pressione arteriosa è spiegata in maggior parte dalla modificazione del microbiota intestinale. Questo in parte giustifica ancora di più l'evidenza del microbiota intestinale sulla gestione, sulla salute di tutto l'organismo e soprattutto per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare. Un mio personale consiglio è quello di non abusare assolutamente del vino rosso. Vi ricordo che lo studio parlava di 2,8 bicchieri di vino rosso alla settimana, mentre per quanto riguarda le porzioni di frutti di bosco, frutti rossi in qualsiasi tipo, ha assolutamente giustificato l'utilizzo di 1,6 porzioni al giorno. Quindi, se volete contribuire ad abbassare la pressione arteriosa, una buona macedonia di frutti di bosco può avere davvero un senso.